Ciao, sono Zana di Turbolab.it. Questa è la mia recensione del progetto Libra, ovvero la criptovaluta presentata da Facebook nei giorni scorsi. Sono un pochino in ritardo con questa recensione perché mi sono letto una montagna di PDF, di documenti, di presentazioni ufficiali e anche di analisi da parte di Binance e di altri servizi per cercare di capirci un pochino di più. Se quindi vuoi capire che cosa è Libra e come funziona senza troppi tecnicismi, seguimi. Prima di cominciare vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Bene, partiamo proprio dai fondamentali. Libra è la criptovaluta di Facebook. Si tratta di un sistema di pagamento alternativo ad euro, dollari e a tutte le monete considerate di stato e tradizionali, ma anche a Visa, Mastercard e a tutti i circuiti di pagamento. In buona sostanza a cosa serve Libra? A scambiare valore, ovvero ad effettuare pagamenti inviando del denaro direttamente da una persona all'altra. Libra è stata presentata a giugno 2019 e arriverà concretamente nelle mani di noi utenti durante la prima metà del 2020. Il sistema Libra è composto da tre elementi. Innanzitutto, uno, la moneta Libra, la valuta Libra vera e propria che costituisce l'unità base di pagamento ed è quella che verrà effettivamente scambiata digitalmente, si intende, fra gli utenti. Due, un grande registro distribuito che conserva tutto lo storico delle transazioni. È fondamentalmente la blockchain di Libra. Tre, i nodi validatori. Si tratta di una serie di server che valideranno le transazioni per confermare la validità e confermare che effettivamente l'utente A ha inviato monete all'utente B. Monete che effettivamente possedeva, delle quali aveva disponibilità e accesso e che non aveva già speso in precedenza. Sono nodi validatori. Il codice sorgente che implementa Libra è distribuito con licenza open source e quindi visionabile e dispezionabile da tutti gli interessati. Il focus del progetto in questo momento è appunto scambiare valore, quindi implementare un sistema di pagamento, ma in un secondo momento arriveranno anche gli smart contract. Che valore ha Libra? Libra è sostanzialmente una stable coin, ovvero manterrà più o meno inalterato il proprio valore nel corso del tempo. Tanto per capire cos'è una stable coin ricordiamo che Tether, che è stata la prima criptovaluta di una certa rilevanza proporsi con questa modalità, sostiene di conservare in un fondo di deposito riservato un dollaro per ogni Tether emesso in circolazione. Libra funziona più o meno nello stesso modo, ovvero il consorzio che ne sovraintende lo sviluppo promette di accantonare un'unità di valore reale, quindi un'unità di moneta tradizionale come euro, dollari, eccetera, per ogni nuova Libra immessa in circolazione. Quindi ogni volta che qualcuno andrà a comprare Libra direttamente dall'associazione che la emette, questa associazione accantonerà il denaro ricevuto in un fondo ed emetterà una nuova Libra. All'estremo opposto invece, in caso un rivenditore autorizzato volesse disfarsi delle proprie Libra, potrà sempre andare dall'associazione che le incasserà e dopo aver prelevato il controvalore dalla riserva che ti tiene in cassa, la assegnerà all'utente che ha appena ceduto le proprie Libra. Queste monete verranno sostanzialmente distrutte, quindi in questo modo il valore di Libra dovrebbe rimanere costante. A differenza di Tether, però, Libra non accantonerà uno specifico dollaro per ogni unità di Libra emessa, ma suddividerà il tesoretto in vari modi. Innanzitutto sicuramente della riserva liquida in euro, dollari, mentre un'altra componente verrà investita in titoli di Stato a breve scadenza. Chi c'è dietro a Libra? Beh, innanzitutto Facebook è uno dei soggetti che più ha voluto questo progetto, però non è da sola. Ci sono infatti una serie di nomi importantissimi della tecnologia e del finance a sorreggere questo progetto. In particolare Mastercard, PayPal, Stripe, Visa, Booking, eBay, Lyft, Spotify, Uber, Iliad e Vodafone sono i nomi commerciali che conosciamo un pochino tutti. Ma ci sono anche molti altri fondi di investimento e anche no profit e università. Facebook ha creato un'azienda indipendente chiamata Calibra, tramite la quale parteciperà a questa associazione. Qual è il motivo di questa sussidiaria intermedia? Semplicemente cercare di tranquillizzare le persone che i dati social che tutti quanti abbiamo messo direttamente su Facebook e su social network Facebook non saranno immediatamente incrociabili con le abitudini di pagamento dei singoli, proprio perché sarà Calibra e non Facebook ad essere parte dell'associazione. Ovviamente non c'è nessun vincolo tecnologico forte perché le due aziende non comunicano, soprattutto visto che stanno sotto lo stesso tetto e fanno riferimento allo stesso gruppo, però almeno formalmente c'è un minimo di separazione fra queste due entità. Il consorzio di aziende che guida lo sviluppo di Libra e ne supervisiona le operazioni si chiama Libra Association ed ha sede a Ginevra in Svizzera. L'associazione stessa è configurata come un'entità no profit nonostante vi facciano parte tutti questi soggetti che invece sono profit e come. Come funziona Libra dal punto di vista tecnologico? Beh, si tratta di una criptovaluta, quindi sono coinvolti due chiavi, quella privata che deve essere costituita dall'utente e quella pubblica che consente di verificare che effettivamente l'utente abbia firmato la propria intenzione di inviare il valore che sia il proprietario di un determinato borsellino. Se volete saperne di più su queste tematiche vi segnalo la nostra guida a Bitcoin che trovate qua sopra dove è spiegato tutto quanto per bene. Qui in Libra è sostanzialmente la stessa cosa. Al contrario di Bitcoin però sarà tutto molto più semplificato perché è sicuramente molto probabile che Libra venga integrata direttamente all'interno delle app per smartphone come Facebook, Instagram, proprietà di Facebook, Whatsapp che fa parte sempre dello stesso gruppo e tutte le applicazioni che utilizziamo tutti i giorni. Quindi fondamentalmente si utilizzerà probabilmente quella come wallet e per inviare e scambiare il valore. Da lì basterà selezionare il proprio contatto e fare sostanzialmente invia per poterli inviare le nostre Libra. Naturalmente essendoci di mezzo Facebook siamo tutti molto preoccupati per la nostra privacy. Beh diciamo che Libra viene bollata come una criptovaluta pseudo anonima ovvero la stessa definizione che viene data a Bitcoin. Ovvero non c'è un legame tecnologico e formale forte fra la persona che detiene un determinato indirizzo e una determinata chiave e la sua identità. È la stessa cosa che succede anche su Bitcoin. Inoltre ogni utente di Libra potrà avere più di un indirizzo e più di un wallet in modo comunque da poter ricevere delle monete da varie fonti senza che chi le invia riesca a risalire a tutto lo storico precedente. Stesso modello di Bitcoin. In realtà come ben sappiamo ogni volta che ci registriamo ad un exchange per comprare delle nuove monete ci viene fatto il terzo grado dobbiamo fornire il documento di identità, nome, cognome e tutto quanto e questo serve appunto perché in questo modo l'exchange per obblighi di legge è in grado di legare le nostre identità alle monete comprate. Che cosa significa tutto questo discorso in breve? Beh, significa sostanzialmente che nonostante non ci sia un vincolo forte tecnologico tra queste due componenti, identità della persona, identità anagrafica della persona e chi detiene un determinato wallet, però tramite l'accesso agli exchange probabilmente verrà creato questo legame. Che però, lo ripeto, è la stessa cosa che viene già fatta oggi con Bitcoin. La vera preoccupazione per la privacy per quanto mi riguarda è appunto legata al fatto che si possano creare delle relazioni fra le abitudini di spesa e l'identità personale dell'utente e quindi Facebook possa essere in grado di incamerare anche questa importantissima informazione che ad oggi probabilmente gli manca. Informazione che non mancherebbe di rivendere agli inserzionisti che quindi potranno bersagliarci con pubblicità ancora più mirata. Trattandosi di una blockchain ci deve essere qualcuno che valida le transazioni stessa cosa che succede su Bitcoin però mentre su Bitcoin chiunque può agganciare il proprio PC alla rete eseguire il software di validazione e validare le transazioni la criptovaluta Libra utilizza una blockchain proprietaria che è permissioned che cosa significa? che per poter diventare un nodo e validare le transazioni è necessaria un'autorizzazione esplicita del consorzio che perlomeno all'inizio probabilmente non ci sarà ovvero Libra non è una criptovaluta sulla quale tutti possono intervenire per validare le transazioni ma saranno solo una oligarchia di nodi molto ristretta a poter svolgere questa operazione critica. Questa naturalmente è una grandissima differenza rispetto a Bitcoin che è Libra che chiunque può partecipare e rende la cosa un pochino oligarchica solo qualcuno ha il diritto e il privilegio di validare le transazioni mentre tutti noi utenti dobbiamo fare silenzio e continuare a spendere senza invece poter partecipare a questa validazione diretta. Nel web paper che ho letto il team di Libra spiega che questa scelta è stata fatta semplicemente perché in questo momento non sono presenti in circolazione delle tecnologie realmente affidabili che consentano di avere una rete totalmente decentralizzata come quella di Bitcoin con le caratteristiche che servono a Libra in modo affidabile, scalabile, sicuro, veloce e via dicendo. Però mi è piaciuto moltissimo il fatto che nonostante il team abbia riconosciuto questa differenza rispetto a Bitcoin che è sicuramente un aspetto importante perché appunto cade tutto il discorso di democratizzazione della moneta che sta al centro di Bitcoin ha promesso che nel giro di 5 anni si sposteranno anche loro su un modello permissionless simile a quello di Bitcoin nei quali chiunque potrà entrare e fare da nodo validatore. Quindi 5 anni nel futuro anche Libra diventerà molto più aperta perlomeno stando a quello che ci hanno promesso. Per gli smanettoni esperti di criptovalute in ascolto segnalo che la blockchain di Libra utilizza un modello di validazione dei nodi BFT, quindi sostanzialmente Byzantine Fault Tolerant che cosa significa? Che sarà sempre stabile e sicura anche in caso vendano compromessi alcuni nodi validatori della rete. Quindi fino ad un terzo dei nodi possono essere compromessi oppure intenzionalmente rivoltarsi contro la rete e comunque il sistema di pagamento riuscirà a rimanere in piedi in modo sicuro ed affidabile. Per quanto appena detto non dovrebbe stupire il fatto che Libra non prevede la presenza dei miners, quindi non ci sono i minatori che validano le transazioni e nel farlo ottengono una ricompensa come invece avviene in Bitcoin, ma di nuovo l'associazione Libra è l'unica autorizzata ad emettere nuova moneta. Quindi di nuovo un discorso molto restrittivo e molto oligarchico. A tenere le redini però dell'emissione della moneta sarà sostanzialmente la promessa, perché in questo momento solo di quella si tratta, di accantonare tutto il denaro prima di emettere in circolazione nuove monete. Agli sviluppatori invece probabilmente interesserà sapere che sulla blockchain di Libra verranno attivati anche gli smart contract scritti in un linguaggio che si chiama MOVE e che è stato sviluppato appositamente per questa piattaforma. Non sarà attivata immediatamente ma diverrà disponibile solo in un secondo momento e da quanto ho capito comunque nella primissima fase sarà disponibile solo ad un pubblico di sviluppatori selezionati. L'apertura al grande pubblico arriverà solo successivamente. Quindi niente mining e neanche niente staking sostanzialmente per quanto riguarda Libra otterremo uno stablecoin che sarà spendibile ma non ci sono possibilità di partecipare attivamente alla vita della rete e di guadagnare denaro da questa attività. Non è prevista nemmeno una ICO quindi ragazzi orecchie sempre molto aperte fate attenzione se ricevete la proposta di partecipare alla ICO di Libra cancellate immediatamente il messaggio bloccate la persona perché in questa fase si tratta di una truffa non è prevista nessuna ICO o Initial Exchange Offering quindi la ICO di nuova concessione. Mi raccomando state molto attenti. Bene da Tana di Turblog.it è tutto come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pollicione e fare mi piace per me è sempre estremamente importante quindi grazie davvero in anticipo se lo farai. Mi interessa moltissimo sapere la tua opinione fammi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensi di Libra se è interessante se è una cosa buona per il movimento criptovalutario se pensi possa fare concorrenza a Bitcoin o se in generale ne starai alla larga semplicemente perché sei preoccupato delle implicazioni della privacy visto che c'è Facebook così direttamente coinvolto. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video compreso quello sulla mia opinione personale su Libra che arriverà nei prossimi giorni non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco al prossimo video ciao 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 Ciao